Ecco, il posto è quello, lo vedi il fumo? La base segreta deve trovarsi sotto al castello È dove tengono prigionieri King e Marie Dobbiamo trovare un modo per arrivarci Già Forza, andiamo Hanno utilizzato questa vecchia miniera abbandonata È molto luminosa Cos'è una tua invenzione? Veramente no, è del Nautilus, me la sono fatta prestare Bene Il cavo elettrico dovrebbe condurci fino alla loro base Marie ha detto che si trattava di una centrale molto grande Quindi se ho ben capito, questo cavo è pieno di elettricità Non toccare! Attenzione, è molto pericoloso Questa è una linea ad alta tensione, può fulminarti all'istante E quella? Sta' attento! Che sia l'uscita Risposta esatta Siamo all'interno della base, occhi aperti Certo Traz Grazie.